Buonasera, sono Roberto, il vostro Google telefonico come posso esserle utile? Sì, mi dica! Sì, no, sì. No, 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 signora, no. Sì, no. No, però se mi fa... No, 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 signora, se mi fa parla... No, signora, se mi fa parla... Sì, certo. Mi dica... No. Ma... No, no, signora... No. Signora... No, no, signora... No, signor... ... Queste... Vejam... остai... Idite... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.